mi sono tagliata le unghie vedete? e poi ricordatevi che la mano di una donna è il biglietto da visita 4 kg di patana 4 kg di patana apritelo a mezzamani che non ha te ma come è bello la crema di ieri ci da vita giù si inquadra mamma si inquadra facciamoci questa sinfonia non potete immaginare non è mai bello ora lo faccio non è bello è inutile la faccio mi baciano una bella ho affettato le patate vedete? bello sempre in mano ora mi ha già cucciato adesso le metto a colare qua dentro allora iniziamo a mettere l'olio vedete ragazzino mette sempre un po' abbondante pensate che ho fatto ho fatto 4 kg di patate le mie belle 2 cipolle di tropea mentre la cipolla abbia rosola che si fa bionda bionda e che va mangiata mi sono tagliata le unghie vedete? la mano si è stimata e poi ricordatevi che la mano di una donna è il biglietto da visita che è stata sempre a rosca ma le ho tagliate non per voi perché fra pochi giorni arriverà il mio nipotino nascerà e con le unghie lunghe è pericoloso purito va già organizzato si guardate che forza ha già usato una mano a scolavast sale pepe acqua vedete? e le faccio cuocere vedete? e le faccio cuocere e stanno poi a pulire noi quando stanno cuociti belle 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 le faccio un po' raffreddare le frullo nel frullatore e diventa tutta una crema di patate ed ecco che inizio a frullare URIT 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 guardate con noi faccio a favore la di patate guardate che bella crema vedete? URIT sto mettendo il patate cazzo una patanatura vedete? URIT e quattro piccassi nonna fermo un poco sennò si brucia il motore 4 kg di patate 4 kg di patate la famiglia è numerosa guardate ahah 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 guardate che bella è bella è bella assai nonna non ci va niente di più qua non c'è il recipiente mezza maniche con crema di patate formaggio e sbriciolata di salsiccia tutti insieme con una spolverata di paprika paprika un po' la crema chantilly eh allora adesso metto l'olio sempre un po' abbondante perché vi lascio immaginare prendo sempre che ma che ce l'abbiamo mangiato oggi sbriciolata di salsiccia metto anche un po' di sale e inizio a mischiare cose metto crema di patate sbriciolate di salsiccia parmigiano a gogò a raffica perché sono sempre quattro di casa non aveva serie limitata guarda tuiii a cavolo è un piacere bocca e stomaco c'è la crema la vado a sfumare con un po' di vino bianco vi lascio immaginare un filo di pasta oggi ne siamo più pochi e ho fatto due filo di pasta due chili di mezzamante nella padella ho sciolto il burro vengono sempre gli attrezzi professionali guardate quanto è questo colino ho imparato parecchie cose a parecchia gente mi fa molto piacere oh britano a mezzamante che non è te buongiorno sono sempre io nonna tele voglio augurare buona domenica a tutti quanti mi metto il piatto finale di quello che ho preparato giù si inquadra vado a inserire due bei mestoli di acqua giù si inquadra vado a inserire metà crema ma roma è bello ma la crema di ieri ci dà un po' di sbriciolata di salsiccia una bella casca di marmigiano unito 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 giù si inquadra mamma si inquadra ma ci mi presta questa sinfonia come è bella mamma vieni giuro un muro guardate qua vado ad inserire questo qua metto tutta la crema vedete come è bella questa crema metto un altro poco di acqua della pasta ma qui non potete immaginare ma che va mangiata non potete immaginare che va mangiata non potete immaginare la pasta questo è un assaggio ne ho messi pochi perchè ovviamente sta a chi piace e a chi non piace la paprika quindi va a finicare il punto e questo è oro colato e questo è un po' di acqua questo è un po' di acqua ciao ciao